Torniamo in diretta, qui dall'Italian Poker Tour, seguiamo una mano a questo tavolo, 75-150 anche ai blanks, prima di tutto i fold, 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 vediamo Bonnià, Bonnià, Bonnià Li, fold, 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 e asso? 300 asso già quindi tende a dare di luce perché mi è puntato? due giocatori in gioco questa mano 8-4 check asso le massimizzate le massimizzate check 300 300 300 300 e c'è il folder il trattatore se è giudicato di piatto se è giudicato 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 si è giudicato se è giudicato Grazie a tutti